Il rapporto uomo-macchina è una complessa interazione che agisce ormai su tutti gli aspetti della vita, da quello ludico a quello lavorativo. In questa prospettiva di interazione tra uomo e tecnologia, Archifix individua l'evoluzione della posa in opera dei controsoffitti nella sensazionale invenzione di un utensile in grado di livellare dei piani automaticamente. Con l'ausilio di una vasta gamma di agganci strutturati per rispettare le tipologie di profili maggiormente utilizzati, Archifix ha studiato Modello 1, kit preassemblato che comprende gancio con gommino antivibrante, vite di regolazione e relativa molla, doppietta. Modello 2, kit con gancio a collo d'oca per controsoffitti classici. Modello 3, kit per strutture con traversino tipo K. Modello 4, kit con aggancio a scatto ribassato con gommino antivibrante. Modello 5, la stessa soluzione senza gommino. L'applicazione iniziale è standard, per cui, dopo aver scelto la barra della lunghezza giusta per la calata da eseguire, basterà avvitare la barra filettata al tassello adeguato alla struttura portante di riferimento, infilarla per qualche millimetro nel kit scelto, portare il tassello ad espansione facendo rotare la doppietta e ripetere l'azione per tutta la pendinatura da eseguire. Finora, le pendinature dei controsoffitti hanno sempre avuto installazioni lunghe, proprio a causa della continua calibrazione che devono avere, proprio perché manuale. A questo punto si inserirà la sottostruttura, che sia a orditura semplice o a orditura doppia, ed è giunto il momento della rivoluzione. Una volta impostato il laser alla quota desiderata e inserito il giunto cardanico nell'avvitatore, basterà accoppiarlo con il ricevitore e tramite il lato calamitato far aderire il ricevitore all'estradosso del montante. A questo punto si inserisce il giunto dell'avvitatore nella testa esagonale della vite di regolazione sotto il gancio e si fa partire l'avvitatore. Esso si muoverà in automatico per raggiungere il livello battuto del laser e a quel punto si fermerà da solo. In questo modo sarà facile ed estremamente veloce calibrare tutti i ganci perfettamente. Per consentire all'intero sistema di poter sopportare un carico molto maggiore, vengono inserite delle clip di sicurezza a ridosso dei ganci, così da evitare al profilo di aprirsi. Le clip vanno posizionate anche alle estremità del gancio ortogonale e della doppia orditura. Il kit Magic Control, grazie alla sinergia tra parti meccaniche e componenti elettroniche, consente all'installatore di poter pendinare un intero controsoffitto in modo semplice, veloce e soprattutto con la precisione che solo uno strumento automatico può dare. Akifix ha certificato questo prodotto sia per l'antisfondellamento che per il calpestio, con lo scopo di ottenere un controsoffitto pedonabile. Akifix è sempre alla ricerca di nuove idee per risolvere i problemi in cantiere. Per questo motivo, all'interno del proprio laboratorio, testa le tenute di carico di tutti i suoi prodotti, per immettere sul mercato accessoristica sicura e certificata. Al prossimo episodio è stato anche testato l'apporto della clip di sicurezza alla tenuta della struttura, verificando che il carico massimo consentito al gancio senza l'ausilio della clip arriva a circa 140 kg, mentre utilizzando la clip si è toccato il valore finora mai raggiunto di ben oltre 260 kg.